Ho deciso di partecipare al corso di Cantante Pop soprattutto perché appunto essendo finanziato dal Fondo Sociale Europeo e ho pensato che comunque un'altra certificazione valida in tutta Europa fosse interessante e importante per il mio mestiere. Oltre agli aspetti puramente tecnici nel corso sono stati trattati temi che spesso si accantonano sottovalutano come la sicurezza, la burocrazia e anche tutto l'aspetto di business del nostro lavoro. Le aspettative sono state soddisfatte, sono state diciamo soddisfacenti e raggiunte. Sono stato invogliato a partecipare perché questa qualifica è valida in tutta Europa quindi è molto attrattiva e nelle scorse edizioni si è visto che c'è stata una buona percentuale di persone che hanno poi trovato occupazione in questo mondo. È indubbiamente un corso a 360 gradi quindi che affronta tutti gli aspetti della musica perché la musica è fatta appunto di tanti aspetti che vanno approfonditi e studiati sempre. La musica è una cosa che non si smette mai di imparare e di scoprire.